Cogna, premio Pol Muzzi alla festa dell'ACI, cosa significa essere l'ACI? Tanto, bello, sono fiero, orgoglioso, è un momento particolare, fa piacere perché dato dai colleghi, per chi fa questo tipo di lavoro, è un riconoscimento che, come ho detto, avrei voluto dedicare a tante persone, qualcuno a casa, soprattutto è arrivato da pochissimo, mi sapete voi amici di Formula Passion, lo sapete bene, mi seguite. Però questa volta ho preferito tanto dedicarlo a Charlie perché sono cose che non si può a volte immaginare. È facile pensare a fare uno sport, un mondo unico come la Formula 1, da protagonista quando sei un giocatore. Non è facile quando sei un regolatore o l'arbitro e allora lo dedico a Charlie, penso che avrà per vita.